Rientriamo allora in onda qui su RBA, siete sempre l'ascolto in particolare di E-Play, il programma di informazione del mattino proprio di RBA, ma in realtà in questa ultima parte restiamo in parte sul tema dell'informazione, ma rubo un po' il tema dell'approfondimento culturale al programma che ci seguirà, almeno due pagine al giorno, quello che comincia dalle 10, perché parlo anch'io di un libro, un libro che verrà presentato quest'oggi a Pralibro, la manifestazione che è in corso come ogni anno a Prali, insomma, in varie sedi come di consueto e noi lo stiamo appunto seguendo. Oggi viene presentato un libro piuttosto interessante e noi raggiungiamo la sua autrice, intanto la saluto la giornalista e autrice, Monica Perosino, benvenuta su Play. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, parliamo appunto di un testo che diamo giusto qualche coordinata, alle ore 18 viene presentato appunto a Pralibro, il libro si chiama La Neve di Mariupol, è uscito per Paesi Edizioni, diciamo che Mariupol come toponimo probabilmente fino a un anno e mezzo circa fa non ci avrebbe detto nulla e invece adesso sappiamo benissimo di che cosa si tratta. Sì, esattamente, l'hanno definito non è un romanzo, ma è un romanzo allo stesso tempo e racconta un po', l'hanno definito una sorta di romanzo documentario, nel senso che racconta il primo anno e qualche mese di guerra in Ucraina, dell'invasione dell'Ucraina, ma attraverso le voci di chi l'ha subita questa guerra. Quindi le persone come noi che in pochissimi secondi si sono ritrovati in una situazione così irrazionale e terribile. Chiaro, la domanda ovvia che immagino ti faranno tutti, ma mi accodo anch'io, come mai la forma del romanzo e non invece la forma del reportage più strettamente giornalistico da dove è arrivata questa decisione? Ma forse proprio per dare spazio a quello che in un reportage giornalistico di solito non trova, ovvero le storie piccole, le storie che di solito non trovano spazio per proprio limiti fisici del supporto, che comunque deve stare entro un certo numero di righe e poi per dare spazio anche a delle riflessioni, non mie, ma delle persone che ho incontrato in questi non 500 giorni, perché il libro è uscito prima dei 500 giorni, ma arriviamo a oltre un anno, non avrebbero forse neanche dignità di spazio, perché di solito noi parliamo, siamo abituati a parlare di guerra in termini molto più asettici, se vogliamo, mentre invece le piccole storie, le piccole storie quotidiane, le paure e poi c'è il soggetto, cioè l'ho raccontato senza filtri, con una parte, non che siano le parti interessanti anzi, ma di riflessioni che mi sono trovata ad avere, io che vengo da una situazione felicissima, di pace lunghissima e di benessere lunghissimo, insieme invece a delle persone che stavano vivendo un'esperienza così estrema. Esatto, immagino sia un po' il modo con cui si prova a far scattare l'elemento dell'empatia con chi legge, noi stiamo guardando questa guerra che è molto vicina a noi, ma comunque rimane molto lontana, abbiamo visto qualche effetto, però insomma chiaramente non ai livelli neanche paragonabili a chi vive da quelle parti e quindi insomma forse metterci in quella, inquadrare la storia in quel modo, cioè immaginiamo cosa sarebbe se fosse la nostra felicità, la nostra tranquillità di essere invase in questo modo, forse il tentativo di trovare un legame con il lettore. Sì, è anche un tentativo, adesso citerò un nome che non è un nome ma è ormai diventato quasi almeno per me un mito che è Svetlana Alexievich, la premio Nobel bielorussa, giornalista ma soprattutto narratrice di molti dei temi che ci riguardano da vicino, delle guerre che noi tendiamo anche a non guardare, a non vedere, a non ricordare. Svetlana Alexievich appunto mi fa perfino l'impressione di dire, mi sono ispirata a lei perché è talmente distante, è talmente grande come esempio che insomma, comunque guardiamo a lei, quando lei dice io non racconto l'orrore, lo parafraso male, l'orrore delle guerre, la sofferenza, il conflitto, la morte perché ne sono attratta, anzi lei cerca l'amore in ogni situazione, ma la sua intenzione e spero che sia l'intenzione un po' di tutti i testimoni di fatti del genere è di far vedere non tanto solo l'empatia perché l'empatia ho imparato mio malgrado che dura poco purtroppo, cioè è lo spazio di un'emozione, poi quando l'emozione scompare siamo molto veloci a dimenticare quello per cui ci siamo emozionati. Ma tornando a Alexievich, lei scrive di guerra per instillare quasi degli anticorpi, far provare al lettore un disgusto per degli eventi che in un anno come il 2022-2023 sono talmente irrazionali, talmente evitabili per appunto produrre anticorpi in modo che sempre di più sia l'ultima e anzi la soluzione impossibile, non praticabile per provocare disgusto rispetto a una roba del genere. Quindi è questo un po' il mio tentativo, non voglio disgustare nessuno, ma vorrei che la mia testimonianza si mettesse insieme a tutte le altre testimonianze che raccontano quanto, perdonatemi il termine un po' così bruttino, ma quanto schifosa sia una situazione del genere e quanto evitabile allo stesso momento. Sì, quindi forse l'empatia può essere vista come un po' l'elemento, come dire, che ci inserisce nella storia, un po' la chiave, la porta, però poi in realtà l'obiettivo è un altro, quello non è il punto finale. E quello che ci pone dopo, e mi sembra di capire che l'idea sia quella anche di evitare quello che è stato fatto molto spesso con la narrazione della guerra, penso ad esempio anche al cinema, ovvero di trovare un elemento, paradossalmente trovare l'elemento romanzesco, anche se stiamo parlando di un romanzo, e quindi anche quando si parla male della guerra spesso c'è comunque l'elemento epico, l'elemento del coraggio, dell'orgoglio, eccetera, eccetera, che per carità esistono, ma insomma sottolineandoli lasciamo un po' da parte invece il resto, quello di cui stavamo parlando. Esattamente, a me ha colpito molto, ingenuamente mi ha colpito probabilmente persone più sveglie, che di me c'erano nevate prima, il fatto che noi siamo abituati, anche per esempio con il mezzo televisivo, anche lì ci sono dei format che lo obbligano in qualche modo, a vedere quasi dei videoclip della guerra, che quasi diventano dei videogiochi, delle cose molto adrenaliniche, molto veloci, molto fra virgolette eroiche, come dicevi tu prima, cioè quindi si raccontano le grandi avanzate, le gesta, come dicevo prima, l'adrenalina sempre accesa, in realtà la gran parte della guerra è esattamente il contrario, è la lentezza, sono i toni bassi, terribili, lunghi, bui, quindi è esattamente il contrario e in questa verità tra virgolette del vivere una guerra non c'è nulla di adrenalinico cinematografico, ci sono ovviamente, non è che si inventa nulla, ma se possiamo fare un paragone, è uscito un bellissimo film che tratto da un altrettanto bellissimo libro, uno di nuovo alla fronte occidentale, che proprio questo racconta, cioè le attese e questo terribile silenzio fra una bomba e l'altra, che è ancora peggio del suono delle bombe. Chiaro, chiaro, sì sì, è uno dei film a cui avevo pensato effettivamente, che stavamo facendo l'opposto di quello che stavo raccontando, come ci dicevi questo libro non è uscito da moltissimo, racconta la guerra, non dico in diretta, però insomma è un evento piuttosto recente nella nostra storia e quindi già lo sta raccontando, però è già fuori da qualche mese e trattandosi di un libro del genere che parla di un tema che è così sull'orecchia, e sulle bocche di tutti di recente. Mi viene naturale chiedere, visto che magari è già stato presentato in giro, c'è già stata una reazione, come è stato accolto questo libro? Ci sono state alcune reazioni interessanti, alcuni momenti particolari di risposta a questo romanzo? Sì, è uscito il 24 febbraio per l'anno della guerra, io fra l'altro ero su in Ucraina, quindi non l'ho proprio accolto in presenza, ma comunque con lo spirito sì. Sì, le reazioni che a me colpiscono sempre durante le presentazioni, quando c'è l'occasione di incontrare chi l'ha letto, chi sa per leggerlo, è che evidentemente in qualche modo coglie nel segno perché le persone hanno due reazioni fondamentali, di enorme paura giustificata, perché ci rendiamo conto che non è una guerra solo vicina geograficamente, ma è una guerra vicina emotivamente, idealmente, nel senso che comunque è molto più facile capire le dinamiche di una guerra del genere, che ahimè è una guerra che per esempio è lontana culturalmente, come linguaggio, come volti anche, di quelle che ce ne sono 50 in corso nel mondo, però sono più lontane e quindi più difficili da comprendere. Quindi la prima reazione è la paura, la seconda reazione è un po' uno svelamento, quello che dicevi tu prima, dell'empatia e della commozione. Quindi ci sono persone che purtroppo infatti mi sento anche un po' in colpa, nel senso che dicono piango tanto perché non mi rendevo conto di cosa vuol dire stare là sotto, infatti là sotto è un termine che ricorso spesso e che mi fa impressione perché è vero, là sotto è una situazione anche di passività, di essere un po' oggetto di qualcosa di più grande di noi, che poi alla fine non lo è, ma comunque. Quindi sì, questa è la cosa. E poi ovviamente la grande domanda a cui io non so rispondere, ma non credo sappiano rispondere con certezza neanche i grandi esperti è quando finirà, perché come tu dicevi è un romanzo in cui non è inventato niente, ma è in forma romanzata di un evento che sta avvenendo in questo istante, ed è talmente orribile che tutti si domandano quando finirà. Esatto, sì, è la domanda principale che insomma è talmente in primo piano che quasi scompare, non ci pensiamo neanche più di tanto. Parlando ancora appunto di presentazioni, per chiudere questo libro viene presentato a Paralibro, sono i 20 anni di Paralibro, una delle varie manifestazioni che per fortuna nelle valli che attorno a noi portano i libri e la cultura in valle, insomma può essere interessante anche portare i libri così lontano dai centri grandi che immagino siano quelli dove si presenta più spesso, dove si dialoga più spesso di libri e invece insomma in questo caso si va in alta montagna. Sì, e fra l'altro con un piacere enorme, uno per l'origine di questo festival, per la natura di questo festival e per il festival anche nella natura. il fatto di far uscire delle persone dalla loro stanzetta per leggere insieme, per parlare di letteratura, per parlare di cultura insieme da 20 anni con un successo crescente è di per sé un miracolo confortante perché dice qualcosa c'è ancora speranza e anzi le persone hanno voglia di incontrarsi parlando di temi che sono apparentemente lontani dal quotidiano, quindi assolutamente un evento straordinario. Esatto, è dell'evento dentro al quale ci sarà questa presentazione, l'ho detto in apertura ma magari c'è che si è sintonizzato più tardi, parliamo della presentazione di La Neve di Mariupolo, il libro scritto da Monica Perosino per Paesi Edizioni, sarà alle ore 18 di quest'oggi, dialogherai con Roberto Russo, questo ancora non l'avevo citato, insomma grazie mille davvero per averci, per aver chiacchierato con noi e buona presentazione, buon tutto, buona fortuna. Grazie a tutti, grazie, ci vediamo oggi.